Rega, tutto Rego? Qua è Martin700 che vi parla, oggi siamo su Clash of Clans, finalmente per tablet. Allora, ho... sono riuscito a... Oh, non so più parlare. Allora, sono riuscito a registrare, però non sto registrando con show, visto che non mi sta andando, visto che non va per il mio tablet, cioè non c'è la versione per il mio tablet, e quindi sto registrando con un altro programma che dopo, che in futuro farò il tutorial. Però andiamo subito a vedere, visto che ha lo scudo non vi faccio vedere, non attacco, vi faccio vedere questo attacco, come vedete ho attaccato con... con... allora... Sì, 75 goblin e 125 arcieri e poi il re barbaro al 2. Anche una pozione, una pozione curatrice per il re barbaro che... che ho messo da poco, no, che metterò tra poco. Ora lo vedrete. Comunque... ok, stiamo... guadagnando molte risorse, alla fine poi vi dirò quanto avremo guadagnato, e avremo... cioè, sto già... vi sto solo facendo il replay, facendo vedere il replay. Abbiamo guadagnato ben 283.000 d'oro e 255.000 di elisir, con il... con... e 201 di elisir nero. poi vi faccio vedere anche... si... vi faccio vedere anche la... difesa... difesa che mi hanno attaccato con 15... 15 giganti al 5, 9 spaccamori al 4, 39 barbari al 5, 54 arcieri al 5, il re barbaro al 6, una curatrice al 2, 3 pozioni curatrici al 4, le truppe del castello del clan che credo che sia la curatrice, le truppe... ah no... poi 6 barbari al 5, 2 barbari al 5, 2 arcieri al 5, 12 arcieri al 7. comunque ragazzi, se volete potete venire nel mio clan, il nome è questo, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, spolliciate con...